continuiamo il video di precedenza quello che ho fatto poco fa eravamo arrivato alla gabbia numero 15 la gabbia numero 16 ancora non ha deposto nessuno uovo la gabbia numero 17 sono dei cluster due covate vuote questa è la terza covata speriamo bene però per quest'anno abbiamo concluso la gabbia numero 18 sono dei fife genitori stupendi hanno due pulletti sotto guardateli stupendi ma già nella prima covata nella prima covata ho sversato due pulletti di dei five spezza covata il bianco recessivo del giallo intenso e la gabbia numero 20 sta preparando il nido sono due bianchi ora vi faccio vedere quelli che ho sversato sono agata rosso mosaico e rosso mosaico sono all'incirca sette mi tre agata rosso mosaico e quattro rosso mosaico invece di qua ci sono dei gialli mosaici e due fife che vi ho parlato sono quattro gialle mosaici e due fife vabbè amici nel giapponosa che ancora non vogliono sapere niente altra coppia di giallo mosaico e abbiamo qua scotch france sto facendo questo appinamento di bianco e vi volevo fare vedere i miei scotch i novelli sono due tre novelli l'altro sta a terra e la mamma a cinque uova cinque uova papà giallo intenso stupendo va bene amici un saluto da caspare e gli amici jolly 3m bb un bacio a tutti amore mio saluta a tutti gli amici di facebook e youtube ciao youtube ciao youtube un saluto da parte nostra un bacio a tutti se vi piace il video mettete like mettete like e condividete un bacio a tutti da jolly 150 like ciao ciao